10 anni di bandiera blu per Santo Stefano al Mare, quest'oggi la cerimonia di consegna per i due stabilimenti che l'hanno ricevuta. Sì, effettivamente per il nostro comune è una grande soddisfazione veder riconfermata la bandiera blu per il decimo anno consecutivo. Non è una cosa così scontata e quindi siamo ulteriormente soddisfatti e orgogliosi di questo risultato. Come ben sapete i parametri che generano poi l'attribuzione della bandiera vanno oltre la qualità delle acque che già di per sé è un valore imprescindibile per un paese a vocazione turistica come il nostro. Oltre a quello c'è tutta una serie di parametri che richiedono una predisposizione ad un comune che come dire abbia lo sguardo più ampio, rivolto quindi a tutta una serie di servizi e naturalmente che vanno dalla raccolta differenziata all'inclusività, alla sostenibilità del turismo che offrono ai propri visitatori. Naturalmente tutto questo avviene con dei partner cui siamo riconoscenti e siamo felici di avere anche sul territorio fondata nel 1988 la Canottieri che è un'associazione che si occupa dei ragazzi che vogliono dedicarsi alla canoa e che nel corso degli anni ha ottenuto dei risultati straordinari. Per loro e per tutti i ragazzi che diventeranno poi grandi noi vogliamo preservare la qualità e la bellezza del nostro territorio e del nostro mare quindi non è semplicemente un discorso prettamente turistico ma è un discorso anche sociale. Ecco, bandiera blu su Santo Stefano del Mare, il vessillo oggi sventolerà su due spiagge e sul porto anche. L'obiettivo magari è crescere nei prossimi anni? Cercheremo di fare tutto il possibile perché questo avvenga.